I am brave, I am cool, I am who I'm meant to be, this is me Io ho imparato una cosa fondamentale, che il mondo non cambia se non cambiamo per primi noi che nessuno ci potrà voler bene se per prima ad amarci non siamo noi stesse Non prendere bene se per prima ad να cambia se non cambia se non cambia se io Sono tuoi no, non vado a me Io ti fano, io ti testimoni Questo è un lavoroしい Quale onore, Vladimir Luxuria, benvenuto a Weekly Grazie Riguardando questo filmato, l'avevo già visto in questi giorni mentre lo preparavamo con le nostre autrici, ma quante vite hai vissuto? Ho vissuto una vita intensa, ho fatto molte cose non perché sono anziana, ma perché ho vissuto una vita intensa. Effettivamente, parafrasando un film di Hitchcock, sono una che ha vissuto più di due volte. Senti, sarà un'estate di grandissimo lavoro, di tanto lavoro per te, però hai grande passione per i viaggi. Sì, avrai tempo? Io transito. Questa era buona, io lo sapevo che diventava subito spinosa qui la faccenda. Sì, mi piace molto viaggiare, anzi io mi reputo fortunata di essere nata in Italia. L'Italia è una nazione così bella per cui se tu ami viaggiare, se tu ami i paesaggi, se tu ami le opere d'arte, cioè veramente sei nel paese dei balocchi. E poi hai la fortuna proprio per come è formata di fare tutto in pochissimi spostamenti, cioè in spostamenti molto brevi. Cioè ti cambia il mondo tra appunto città d'arte, paesaggi montuosi, le coste. Sì, a volte anche da dieci chilometri, tu lo sai bene, anche trovi delle specialità culinarie completamente diverse, accenti diversi. E' bellissima l'Italia nella sua varietà. La vedi la scatola accanto a te? Sì, la vedo. Ti pregherei di aprirla cortesemente, se vuoi ti do una mano, se il tappo non ha fatto il vuoto, perché di solito fa un po' il vuoto. Vediamo cosa c'è dentro. Ah, cosa c'è? C'è un'altra scatola. La scatola nella scatola, però questa, l'Adimir è una scatola di scarpe. Che cosa rappresenta per te? Allora, è la mia adolescenza. Quando la realtà ti spaventa, la fantasia ti salva. Quando capisci che la realtà sarà dura per la tua identità sessuale, c'è sempre la fantasia. La mia fantasia era questa scatola di scarpe. Lo facevo con un mio amico, che purtroppo adesso non c'è più, che si chiamava Sergio. Noi praticavamo un foro da questa parte e da quest'altra e questa scatola diventava quella che ho di fronte, la telecamera. Quindi vedevamo da una scatola all'altra, inquadravamo scene, foglie di giornale e ci dividevamo i compiti. Io facevo tutte le parti femminili e lui faceva tutte le parti maschili. E quando sei bambino, sei così innocente che il mio amico non mi ha mai chiesto perché tu vuoi fare le parti femminili pur essendo io nato maschio? Perché ci veniva naturale così? Perché forse quando sei bambino riesci di più a capire l'anima e la sensibilità delle persone con cui giochi o con cui ha a che fare. Questa per te è stata, ed è una scatola magica, un po' come volgarmente viene chiamata nell'ambiente in cui lavoriamo, la televisione, che regala un po' di magia, la televisione è una grande scatola. Io ricordo quando ero piccola mia nonna ha avuto una delle prime che ebbe la televisione a colori, che l'aveva posizionata anche in alto. Per cui io ricordo quando avevo 8, 9, 10 anni, per esempio mille luci, i varietà del sabato sera della Rai. Per me non era solo televisione, era un tempio sacro, perché ci illuminava e quindi per me la televisione è sempre stato tutto, ripeto, ed è stato anche un rifugio, perché la fantasia è stato un grandissimo mezzo di sopravvivenza. Nella scatola, quella nostra di Wigley, c'è un altro oggetto che ti tocca molto da vicino. Che cos'è? Vediamo cosa c'è. Ah, un camion! Che cosa significa il camion? Il camion è mio papà, è vederlo rientrare la sera, stanco, perché aveva fatto tantissimi chilometri, spesso rischiando anche di avere qualche colpo di sonno, per portare avanti una famiglia composta da 5 figli, non ci hanno mai fatto mancare niente, e quindi il camion è mio papà del sud, grande lavoratore, che inizialmente ha avuto qualche difficoltà a capirmi, ma che poi, grazie davvero al tempo, alla fortuna, io mi reputo molto fortunata, ha anche cambiato idea su certe questioni, e una volta, quando c'è stato il Pride a Foggia nella mia città, lui ha voluto usare il suo camion, che ormai non usava più perché era andato in pensione, come carro, non per trasportare pomodori o barbabietole, ma per mettere della musica e far ballare tutti al Pride. Quindi mio padre è stato davvero un grande esempio di padre, che non ha mai smesso di essere padre. Hai impiegato tanto a riconoscerti tuo papà? Sì, e guarda che non gliene faccio una colpa. Io penso sempre che bisogna incontrarci, non bisogna che io sto qui con le mani concerte così, e poi devo aspettare sempre che l'altro debba avvicinarsi a me, è un lavoro reciproco. I nostri genitori sono anche dei figli, figli della loro generazione. Queste questioni sulla sessualità non erano mai state spiegate a mio padre, che aveva vissuto in campagna, aveva lavorato sin da piccolo a trasportare pollo, per cui non ho mai pensato che è colpa di mio padre se non mi capisce. È stato un lavoro reciproco, che però per fortuna ha portato buoni frutti. Oggi ho un rapporto bellissimo con mio padre e con mia madre. Senti, se ti dico Princesa, cosa ti viene in mente? Cosa porterai in scena, Vladimir? Se mi dici Princesa mi stai emozionando, perché lo sto provando in questi giorni, è un monologo con la regia di Fabrizio Coniglio, che porterò a un festival bellissimo della Liguria, che si chiama Festival di Borgioverezzi, il 26-27 luglio. Questa è la canzone che è la storia di Princesa, è ispirato a De André. Al brano di De André. Nell'album Anime Salve, bravi. Ed è una storia di... Prego, prego. Una storia di una persona che ha tanto sofferto, che ha sognato l'amore e lo ha trovato poi in carcere, dove era stata imprigionata per tentato omicidio. Ma io parlerò in questo monologo di tutto quello che ha portato questa Princesa, una trans brasiliana che è venuta in Italia a cercare fortuna o a correggere la fortuna, come dice De André, e che ha vissuto davvero violenza, anche droga, anche la strada, e che a un certo punto trova l'amore proprio in questo carcere. Un carcere al quadrato, perché lei ha sempre vissuto il fatto di essere nato maschio già come una gabbia, e in più poi si ritrova in questo carcere. Quindi, se mi volete vedere in galera, venite a Borgioverezzi. Questa è una metafora, quindi, che ritorna a quanto capisco da, come dire, il tumulto emotivo che ti tocca e senti vicino questo ruolo. Perché c'è stato un momento della mia vita in cui anch'io ho brancolato nel buio come Princesa. Io ho avuto la fortuna della cultura. La cultura mi ha salvata. Ho sempre avuto un grandissimo amore per la cultura. E anche nel momento più buio ho sempre pensato che fin quando ci sarà qualcuno che farà una nuova canzone, fin quando c'è ancora un monumento che io non ho visto, una spiaggia che io non ho visto, vale sempre la pena di dire io voglio continuare a vivere ed è bello vivere. Prima mi hai parlato di tuo papà con tua mamma, che rapporto hai avuto? Questo te lo chiedo. Però so che una grande mano te l'ha data un grande maestro non solo della nostra televisione italiana, parlo di Maurizio Costanzo. Maurizio Costanzo gli devo tutto. perché, a parte che mi ha fatto diventare famosa perché io nelle prime trasmissioni sono andata da lui e quindi mi ha sdoganato al grande pubblico. Però essendo un giornalista che non è che ti spreme come un limone, poi era interessato alle vite delle persone, no? E allora aveva capito che c'era ancora qualcosa di risolto nella mia vita e con lui nel suo studio ho parlato del mio rapporto con mia mamma. Allora lui ha avuto questo occhio illuminato e mi ha detto perché non invitiamo mamma in trasmissione? Io ho detto, bene. Ho lasciato il numero di mamma, tanto ero convinta che mia mamma dicesse di no perché poi mia mamma insomma è una timida, non è abituata. E invece mia mamma ha accettato. Sai perché ha accettato? Perché non parlare di certe cose... Adesso nel mio caso è la sessualità ma in genere non parlare di certe cose importanti è una zavorra che tu ti porti. Per cui per mia mamma quell'invito è stato un invito a liberarsi di questa zavorra e finalmente a parlare. È venuta, abbiamo parlato e da allora devo dire che Maurizio Costanzo ha migliorato la mia vita. E poi parlando di teatro lui ha sempre creduto in me anche come attrice teatrale tant'è che io tanti lavori li ho fatti con lui quando aveva la direzione di tanti festival teatrali e l'ho avuto anche come spettatore in più spettacoli teatrali vedendo Maurizio Costanzo commosso che è una cosa che non avevo mai visto. Grazie mille di essere stata con noi. Grazie a te. In bocca al lupo per lo spettacolo e ti aspettiamo presto quando vuoi. Grazie. Alla prossima Torniamo tra un minuto pochi secondi restate con noi.